Provocatoriamente siete andati a Cutro per presentare questo decreto. Proprio lì dove il mare è diventato un cimitero, dove sono morte oltre 100 persone. Siete andati proprio lì per produrre un testo normativo che restringe le garanzie dei richiedenti asilo e i diritti delle persone migranti. Siete andati lì per presentare un testo dove non c'è assolutamente nulla che possa incidere sulle cause che hanno prodotto quella tragedia o per tentare di prevenirla. Proponete, per alginare i flussi migratori, di indebolire la protezione speciale, scaraventando così decine di migliaia di persone in stato di irregolarità. Invisibili per la legge, ma in realtà materialmente presenti sul territorio, queste persone sono così private della propria dignità, della possibilità di costruirsi una vita in Italia o in Europa. Certamente con questo decreto, dopo aver colpito le ONG, colpite violentamente e direttamente gli esseri umani. E colpite anche quelle realtà sociali che si troveranno maggiormente in difficoltà nel sostenere persone che lo Stato decide di collocare in posizione di irregolarità. Abbassare l'asticella dei diritti ha sempre favorito l'ipersfruttamento e il capolarato. Più persone sono irregolari, maggiori sono gli affari della criminalità organizzata e dell'imprenditoria senza scrupoli. L'indebolimento della protezione speciale genera sacche di irregolari e lo Stato di emergenza crea quelle condizioni autoritarie che questo Governo tanto desidera. Il vostro schema è molto chiaro. Servono più CPR, consapevoli della irregolarità dilagante, servono più rimpatri, diminuendo le tutele del diritto di asilo e al contempo serve un commissario per far sì che le persone irregolari vengano osservate a vista e dirottate nei centri di detenzione. Siamo di fronte al più violento tentativo di sovvertimento di alcuni fondamentali istituti costituzionali, democratici e sociali della recente storia repubblicana. E non deve ingannare il fatto che questo decreto legge riguardi solo migranti e solo norme che disciplinano l'immigrazione. E' evidente che attraverso questo decreto legge diventa plasticamente visibile una certa, la vostra, idea di società. Voi negate l'evidenza della storia, negate le ragioni stesse dell'immigrazione. La guerra, l'indicenza, quel rischio di perdere la propria vita o la vita dei propri figli, che spinge a correre un rischio che sembra minore e a mettere se stessi e i propri figli su una barca, che può diventare una trappola di morte. Vi state allenando a negare un'altra causa di movimento dei popoli, che è purtroppo destinata a crescere in maniera proporzionale alla drammatica condizione del pianeta, l'emigrazione climatica. Voi preferite creare caos, paure, incertezze, piuttosto che tentare un qualsiasi governo di un fenomeno che, lo ripeto, è una costante della storia.